Al grido di una valle-vale se c'è l'ospedale, i cittadini della Val Chiavenna, unitamente i sindaci del mandamento, hanno manifestato, numerosissimi, tra le vie del centro storico della città del Mera, per sottolineare la volontà degli abitanti e delle istituzioni di salvaguardare la struttura ospedaliera. Il corteo, convocato da alcune settimane dal comitato insieme per l'ospedale di Chiavenna, impegnato ormai da anni nella salvaguardia del presidio mandamentale, ha incontrato una notevole adesione e ha registrato una forte comunanza di intenti tra istituzioni, cittadini e comitato, come ha ricordato la portavoce Elisa Casati. Siamo veramente molto contenti di come è andata e dell'affluenza così numerosa che veramente non ce l'aspettavamo. Speriamo che per la popolazione sia stato un incontro costruttivo interessante, come comunque lo è stato per noi anche nel rapporto con i sindaci. Speriamo che questo rapporto diventi sempre più costruttivo perché è ovviamente l'unione che fa la forza e che può portare alla salvaguardia di tutto il presidio e di conseguenza di tutta la valle, anche per il turismo e quant'altro. In tanti, preoccupati del continuo depotenziamento denunciato da più parti del punto nascite e dei reparti di medicina, chirurgia e ortopedia, hanno deciso di ritrovarsi sabato pomeriggio in via Cereria e, sfilando in un ordinato corteo nel centro cittadino, di riunirsi in piazza Bertacchi di fronte al comune, per sottolineare l'importanza della struttura ospedaliera. Mamme, bambini, presenti in prima fila i pulcini della squadra di hockey, anziani e comuni cittadini hanno scandito slogan, sfoggiato stricioni, soffiato nei fischietti e suonato trombe e trombette in una manifestazione che, come ha ribadito uno dei membri del comitato, Natalia Panatti, non ha colore. È stato detto in precedenza, l'abbiamo confermato anche oggi, siamo assolutamente apolitiche e appartitiche e lo ribadiamo ancora. Forte la volontà espressa dal sindaco di Chiavenna, Luca Dallabitta, di tutelare i servizi e i reparti essenziali, senza sconti e senza fare alcun passo indietro, mentre Patizia Palatti, presidente dell'Assemblea dei Sindaci, ha esortato i cittadini a voler bene all'ospedale di Chiavenna, continuando a viverlo e a non abbandonarlo. Guardare a ciò che funzionava in passato per orientare le azioni del presente. Questo è il messaggio di chi alla protesta ha portato a testimonianza di una vita intera di lavoro dentro l'ospedale. Orestia Pironi, che per oltre 40 anni è stato infermiere, mantiene inossidabile il ricordo di una vita dedicata alla struttura mandamentale. Sono stato il primo infermiere della Valle Chiavenna, allora l'ospedale si chiamava Ospedale Valle del Mera e c'era solo il professor Corbetta che era un medico che lui da pochi anni laureato. Ero lavorato 40 anni facendo di tutto. Credo che almeno il ricordo che rimanga l'ospedale di dire ecco l'ho visto avviare di non vederlo morire.